L'avvocato Aquilano Maurizio Dionisio torna alla guida dell'Arta come direttore generale di questa importante agenzia regionale della quale fu in passato già commissario. Uno dei primi obiettivi è il potenziamento dell'attività di controllo di mari e fiumi affinché restino puliti e non inquinati. Il potenziamento quindi delle attività di controllo e anche analitiche per permettere che quel mare pulito, quei fiumi puliti non siano solo in periodo di chiusura totale dell'attività ma anche tutti i giorni. Le caratteristiche dell'avvocato Dionisio sono state ritenute idonee per guidare l'agenzia regionale in questo periodo di grande emergenza. L'Arta del resto ha un ruolo molto importante relativamente ai vari studi di correlazione tra covid e inquinamento tra le altre cose. Nella zona dell'Emilia-Ropagna e della pianura padana è stato verificato che ad alti tassi di inquinamento da particolato sottile in atmosfera, il cosiddetto PM10, corrispondeva un alto tasso di diffusione dell'infezione. Qualcuno sostiene che l'inquinamento da microparticelle possa essere un trasmettitore, un veicolo per le goccioline contenenti il virus. Attualmente questa è un'ipotesi che è ancora sotto la lente di ingrandimento del mondo scientifico. Ma qualora fosse vero dovremmo preoccuparci ancora di più attraverso le nostre centraline di monitoraggio di verificare con grande attenzione quante polveri sottili esistono nella nostra atmosfera. Questa enorme quantità, almeno si prevede una grande quantità di mascherine e guanti in lattice nel nostro mare, vorrebbe creare dei grandi problemi all'ecosistema marino.